Da Marinella alla Valdivara, realtà che possono essere produttive e salvare piccoli territori. Questi problemi, secondo lei, possono trovare una soluzione? Devono trovare una soluzione. Bisogna che ci impegniamo tutti, dal governo alla regione, ai territori. È chiaro che c'è un tema decisivo che è quello di ricostruire progetti di agricoltura sostenibile, soprattutto in contesti rurali, dove il tema dei piccoli comuni, il tema della piccola agricoltura è dominante. Ci dobbiamo lavorare tutti. Noi dobbiamo pensare innanzitutto a politiche nazionali che garantiscano il reddito di chi vive di agricoltura e di chi tutela il paesaggio e con l'agricoltura consente anche a famiglie, a persone di rimanere, in particolare nei piccoli centri. È uno dei temi decisivi anche dei prossimi anni. Quello che posso assicurare io è la massima attenzione da parte nostra a costruire misure, strumenti che accompagnino sempre di più questa strategia, in particolare per le aree interne, in particolare per le aree collinari, montane e per quelle più periferiche. Nessuno ha la bacchetta magica, ma con un lavoro costante e tenace su questo, secondo me si possono fare dei passi in avanti. Tra poco ci sarà il congresso del Partito Democratico. Ci puoi dire qualcosa sulla mozione che porta al suo nome, Renzi Martini? Beh, la mozione che credo più di altre esprime la volontà di andare avanti nel PD, di crederci ancora, di allargare la strategia, lo sguardo, la forza del Partito Democratico, di ricostruire anche un'idea di comunità politica, di farlo guardando innanzitutto i bisogni degli italiani, in particolare al tema del lavoro, come tema decisivo per nuove generazioni, donne, per in particolare i tanti che hanno vissuto pesantemente una crisi durissima, quella degli ultimi anni. È l'idea di un partito che prova a tornare ad essere popolare, è l'idea di un partito che vuole tornare ad essere fino in fondo una forza di cambiamento, verso gli italiani, soprattutto rispondendo a una domanda di buona politica che c'è e che ci deve far battere in particolare chi soffia sulle paure come antidoto, come propaganda, come se lì si trovassero le risposte ai problemi veri che questa crisi lunga ha generato in Italia e in Europa.